Il pastificio Milazzo nasce nel 1992 a San Cono, un paesino dell'entroterra siciliano, sito a 15 chilometri da Caltagirone e da circa 80 chilometri da Catania. Già dalle origini il suo fondatore, il signor Milazzo, è andato alla ricerca delle migliori miscele di semole, raggiungendo il top negli ultimi anni, ottenendo una pasta da semola certificata 100% siciliana. La pasta Milazzo è una pasta artigianale a lunga conservazione, con una durata di 24 mesi. Per produrre una pasta artigianale di qualità, bisogna innanzitutto partire dalla selezione della materia prima, ed è infatti questo il motivo che porta il pastificio Milazzo all'utilizzo di una semola macinata grossa e realizzata con grani esclusivamente siciliani. La pasta Milazzo viene prodotta lentamente e mediante l'utilizzo di trasformazioni filial bronzo, che permettono l'estrusione e la formazione di una pasta porosa, capace di trattenere al meglio il condimento. Un'altra fase importante nel processo di produzione del pastificio Milazzo è l'essiccazione, la quale avviene all'interno di celle statiche ad una bassa temperatura di massimo 38 gradi, operazione quest'ultima che permette il mantenimento delle proprietà organolettiche del prodotto. Tutti i formati della pasta Milazzo hanno un alto spessore e di conseguenza sono molto corposi e gradevoli al palato, va da sé che hanno la proprietà di tenere la cottura, come pochi altri. Oltre alla tradizionale pasta di semola di grano duro siciliano, il pastificio Milazzo produce altre specialità, con l'aggiunta di aromi naturali.